benvenuti a meteo giulianci punto iti domani venerdì 27 gennaio farà bel tempo al centro sud nube invece in aumento al nord e su toscana umbria e lazio per l'avanguardia di un'intensa perturbazione in arrivo dalla francia attenzione perturbazione che sabato entrerà nel mediterraneo occidentale richiamando aria gelida in valpadana dai balcani la quale poi potrebbe dar luogo a nevicate anche in pianura sul piemonte sull'ovest della lombardia ma vediamo la mappa del satellite virtuale che mostra appunto il nord italia e la sardegna ricoperte da nuvole che tempo allora farà domani il sereno sulle regioni adriatiche al sud e le nuvole sul resto d'italia qualche pioggia solo a liguria debole nevicate in val d'aosta per quanto riguarda le temperature queste saranno in calo sul nord italia bene termino qui vi ringrazio per l'ascolto ancora un buongiorno